Un caro saluto a tutte e a tutti, finalmente la famosa quota 100, vale a dire 62 anni di età e 38 di contributi come minimo, è realtà. Il decreto lo prevede, si tratta di metterla in atto, stanno arrivando le prime domande. Chiarisco un punto, avendo inventato con Romano Prodi le quote nel lontano 2007, all'epoca si parlava di quota 95, vale a dire 60 anni di età, 35 di contributi, 59 anni di età, 36 di contributi, 58 di età, 37 di contributi, non sono contrario ovviamente alla flessibilità attraverso le quote. Quindi sbaglia chi dice siamo contro aprioristicamente, noi siamo per la flessibilità del sistema. Che cosa non va in quota 100? Ma quota 100 sperimentale dura per tre anni, 19, 20, 21, nel 2022 non ci sarà più, quindi i nati a partire dal 1960 non potranno beneficiare di questa possibilità. In secondo luogo noi dobbiamo sapere che per accedere a quota 100, che non è una vera quota perché i 38 anni minimi sono fissi, non scendono e non salgono, bisogna avere un numero di contributi, appunto questi 38, rilevante, importante. Chi viene privilegiato? Soprattutto i lavoratori maschi della grande impresa, vengono discriminate rispetto a questa possibilità, le donne che hanno le carriere discontinue, i disoccupati che non ci arrivano, chi fa dei lavori stagionali, i cantieri dell'edilizia, quindi lo diciamo da sola, quota 100, non solo non smonta la fornero, ma non risolve tutti i problemi, è un passo avanti, è un passo avanti che deve essere accompagnato dall'ape sociale, che noi vorremmo strutturale perché lì in quel caso con alcuni miglioramenti si interviene a vantaggio delle donne, dei lavoratori discontinue e soprattutto dei disoccupati che con 63 anni di età, con appena 30 anni di contributi e non 38, potranno andare in pensione, si chiama ape sociale. Le due misure debbono camminare di pari passo. Spero che il lavoro parlamentare possa portare quelle migliorie utili al Paese, alle imprese e ai lavoratori.